Un giro per la Sicilia per visitare le incompiute e i cantieri fermi, nello spirito di collaborazione di un'opposizione costruttiva, lo ha ribadito il segretario regionale del Partito Democratico, Davide Faraone, nella sua tappa dinnanzi ai cantieri della CMC. Una manifestazione che è partita dal campo base dei lavori della Palermo Agrigento a Caltanissetta. Ma noi quando eravamo al governo abbiamo fatto partire i cantieri, abbiamo fatto partire anche questo cantiere, abbiamo destinato 4 miliardi di euro per le opere pubbliche e per nuovi cantieri che potrebbero avviarsi. Il problema è che chi oggi è al governo invece sta bloccando le opere pubbliche che noi avevamo finanziato, stanno rivisitando tutto, vi faccio l'esempio della Ragusa Catania, c'erano già gli espropri esecutivi e loro hanno bloccato tutto. Noi stiamo facendo una campagna per dire che al sud le infrastrutture sono una priorità per creare lavoro e per ridurre i disagi dei cittadini. Il fatto che si parli per bocca di questo governo soltanto della TAV, che per noi va fatta, ma che è alta velocità, che qui sconosciamo e dovrebbe essere un tema che riguarda anche il Mezzogiorno, e invece è scomparso dall'agenda di questo governo il tema delle infrastrutture al sud, io credo che sia un fatto grave. E stiamo facendo una campagna proprio per attenzionare questo tema. Quale potrebbe essere la soluzione? Avete una soluzione per questa vicenda che riguarda la CMC? Si parlava di integra? Si parlava di un subvento? Ma intanto bisogna salvaguardare i posti di lavoro. Questa è la cosa essenziale. Bisogna aiutare le imprese che hanno investito su quest'opera pubblica. E serve subito che il governo regionale e il governo nazionale intervengano. Invece noi abbiamo fatto un'interrogazione proprio in questo senso, per chiedere a Torinelli, anziché sparare fesseria a destra e a manca, su tutto quello che riguarda le infrastrutture, di occuparsi di convocare immediatamente un tavolo per sbloccare questa situazione. E naturalmente il tema riguarda tutte le infrastrutture siciliane. nominano un commissario sulle strade senza metterci soldi. E questo è un fatto di idea della politica che riguarda gli spot più che le cose concrete. Parliamo del nostro territorio. Qui ci vuole proprio veramente poco tempo. Se si mettesse tutto il regime, in due mesi probabilmente si completerebbe tutto nella parte che riguarda il tratto che incide su Caltanissetta. Perché, segretario, Caltanissetta è completamente isolata in questo momento. Assolutamente sì. Credo che Caltanissetta sia il simbolo dell'isolamento infrastrutturale della Sicilia. Fra l'Agrigento Palermo, la Caltanissetta Agrigento e tutte le infrastrutture che poi anche nell'entroterra sono assolutamente deficitarie, c'è un'emergenza che riguarda anche l'entroterra e riguarda il centro della Sicilia. Siamo qui proprio per questo, per denunciare questo ritardo e per dare disponibilità anche per costruire insieme politiche di intervento. La nostra è un'opposizione costruttiva che non si limita a segnalare il problema.